Amici sportivi, buonasera. Torniamo con tutto campo dopo una sconfitta del Pescara con il Modena, una sconfitta un po' particolare. L'arbitro Gersini ha un po' rovinato la festa ai biancazzurri che avevano iniziato bene e poi ci sono state una serie di espulsioni, insomma una partita sicuramente non normale, non come le altre. Ma ne parleremo con gli ospiti in studio, innanzitutto Walter Nerone e Luigi Alboremace. Buonasera. Buonasera a entrambi. Allora Walter, il vero protagonista è stato Gersini a Modena. Nel bene o nel male, insomma? Dal punto di vista del Pescara sicuramente nel male. È stato protagonista ma è stato un pochino aiutato a essere protagonista da un paio di episodi che i giocatori del Pescara se potevano tranquillamente risparmiare. Perché poi come ha sanzionato il giudice sportivo, le due sciocchezze di Lazzari, quella di Lazzari forse più leggera di quella di Puccini. Entrambi tre giornate. Entrambi tre giornate, ma proprio entrambi perché, diciamo, gratuito. Se vogliamo il giudice è stato pure un po' severo. Però il problema è, da un lato Lazzari ha, diciamo, più volte provato a colpire questo, l'avversario che ormai non era più in condizione di giocare. Quindi lo cercava con questa mano, secondo gli arbitri lo cercava per fargli male e non c'è ragione che tenga. Puccino è stato di un'ingenuità totale. Lui accompagnava l'avversario Granocce verso il centrocampo e assisteva all'arbitro che assisteva alla scena dell'ammonimento di Granocce. Ha fatto un gesto che sembra violento, magari non lo è stato, magari ha toccato solo la palla, ma è un gesto che sembra violento. Si è preso tre giornate. Che l'arbitro sia stato. Se è vero, mi sta bene. Che l'arbitro abbia... Anche sul rigore, forse... Che l'arbitro, che stavo dicendo quello, che l'arbitro sul rigore, secondo me, abbia sbagliato, non ci piove e quindi c'è la beffa poi della squalifica di Zubaric. Però, in questi due episodi, che sono stati addirittura più gravi, secondo me l'arbitro è stato severo, ma i motivi per intervenire ce li aveva. E il Pescara queste cose non se le può permettere. Luigi, la terza partita è fatale. Insomma, due vittorie consecutive e poi nella terza l'onda di fatto. Eh, sembrerebbe lo stesso schema delle due vittorie, della vittoria fuori casa con il Crotone, che poi non portò bene. Successivamente ci fu un tracollo in casa, questa volta fuori casa. Questa è una brutta sconfitta. È una brutta sconfitta perché frena una striscia positiva, frena l'entusiasmo del pubblico che sembrava essere ritrovato dopo la partita con il Frosinione. È una brutta sconfitta perché lascia anche uno strascico pesante per via delle squalifiche. Quindi, per l'ennesima volta, mister Baroni dovrà essere alle prese con una squadra da reinventare, tra infortunati e squalificati. Ed è una sconfitta figlia sicuramente delle scelte cervellotiche di questo giovane arbitro che aveva già dei precedenti con il Pescara. Però è anche figlia di un approccio, secondo me, sbagliato del Pescara. Perché è vero che le squadre di Novellino forse non sono molto spettacolari e quindi giocare contro le squadre di Novellino non è facile. Però francamente, anche fino a quando il risultato era in equilibrio, a me quel Pescara non è piaciuto. Mi sembrava una squadra troppo carica dal punto di vista nervoso, volevano spaccare il mondo, evidentemente c'era molta concentrazione, l'approccio era anche giusto da questo punto di vista. Però il Pescara non è riuscito a sciorinare il suo gioco perché era un altro Pescara rispetto a quello che avevamo visto col Frosinone. Questo è il grosso interrogativo che purtroppo ci assilla dall'inizio della stagione, di una squadra che non riesce a ritrovarsi, che non riesce ad avere continuità, che non riesce ad avere affidabilità e ogni settimana siamo punto a capo e ricominciamo tutti i discorsi. Ne parleremo anche con gli altri ospiti della serata. Introduco Franco Fedele, ex dirigente presidente del Pescara, Franco buonasera. Allora Franco, erano tempi diversi i tuoi, come ti ritrovi in questo calcio che cambia? Non so se in bene o in peggio. sono diversi, si divertiva di più, adesso c'è troppa attenzione, troppa apprezzione, bisognerebbe alleggerirlo un po' insomma come partite di calcio. Allora, grazie Franco. Abbiamo con noi l'assessore allo sport del Comune di Pescara, Giuliano Diodati. Buonasera Giuliano. Buonasera. Accomodati all'esterno. Allora Giuliano, con te immagini parleremo molto anche delle attrezzature sportive, degli impianti e si parla tantissimo dello stadio, poi ci dirai qualcosa insomma. Quindi non solo calcio giocato, ma qualche volta è bene parlare anche di altri. Come no, come no. Io sono qui a tua disposizione per cercare di parlare un attimino anche della situazione degli impianti sportivi di Pescara, anche se non avendo competenze specifiche nel calcio, però qualcosa voglio dire anche sul Pescara, qualcosa studiato in questi giorni. Quindi insomma io ritengo che la squadra sia stata fortemente penalizzata dall'arbitro, si tratta di ragazzi giovani, però nella Serie B basta poco per deprimersi e basta poco per esaltarsi. Per cui io sono convinto che, anticipo forse i tempi, ma una buona prestazione contro il Lanciano potrà essere da trampolino di lancio per il futuro di questa squadra. E già, perché c'è il derby venerdì prossimo in notturna, è una partita importantissima, molto sentita. Chi ha studiato il Lanciano è invece Giorgia Sulli. Buonasera Giorgia, benvenuta, nostra collaboratrice che è stata a Lanciano, ha incontrato alcuni tifosi, ha intervistato anche l'allenatore, alcuni giocatori. Insomma, com'è stata questa esperienza lancianese? Ho avuto la possibilità di studiare i tifosi lancianesi e devo dire che c'è molta tensione, si nasconde ma c'è molta tensione, anche perché è una partita particolare, non è una partita come le altre, come diranno sia i tifosi sia l'allenatore durante la conferenza stampa. Quindi sarà una bella partita, ne sono certa. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone sta viaggiando sul prato e quando arriva mi farà sudare, ma dimmi quando arriverai, son così teso questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice e smalordito non t'ho vista mai, a tutto campo arriverà, e un tolzotto con pescara qui si parlerà, chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione rimarre senza parole, clicca se seguici. Bene, torniamo in diretta, quindi per parlare della partita con il Modena, avevamo iniziato con Walter Nerone parlando dell'arbitraggio, arbitraggio che ha fatto un pochino di spiacere a molti qui a Pescara. Al di là dell'arbitraggio, insomma, nel Pescara c'è ancora qualcosa che non va? Nel Pescara c'è ancora, non dico parecchio, ma c'è più di qualcosa che non va. Non dico, insomma, qualche miglioramento c'è stato, qualche miglioramento c'è stato. Il problema Pescara è che manca ancora di personalità, di autorevolezza, cioè in campo subisce l'avversario prima ancora che l'avversario, diciamo, manifesti una certa superiorità. C'è stata l'eccezione piacevolissima contro il Frosinone, dove si è vista una potenzialità che poi subito, la settimana dopo, rimane inespresso. Il fatto di non riuscire a fare tre partite positive, senza perdere, consecutive, diciamo, denota una certa pressione. Cioè questa squadra, evidentemente, fatica a esprimersi nel momento in cui dovrebbe essere più tranquilla. È un paradosso. Se dopo due risultati positivi dovresti avere qualche certezza in più, questa è dopo due risultati positivi, nervosamente crolla. Eppure l'ambiente non è un ambiente che sta pressando in questo momento. No, quest'anno l'ambiente non sta pressando. Però, attenzione, specie sui giovani, questo atteggiamento polemico dei tifosi nei confronti più che altro della società, qualcosa dal punto di vista nervoso suscita. perché vedere quel pezzo di curva vuoto, che poi tutto sommato è vuoto per modo di dire perché si mettono più sotto, quindi, diciamo, il clamore, il calore che dovrebbe arrivare, anche se un po', diciamo, a singhiozza arriva lo stesso. Il problema è che è un messaggio, no? È un messaggio che loro intendono in maniera negativa e che, infatti, non a caso le peggio cose le ha fatte in casa, non a caso le peggio cose le ha fatte in casa, con quella eccezione, ma le prestazioni più sconcertanti le ha fatte in casa. E credo che ci sia qualche problema, dopodiché ci sono alcuni ragazzi, che mi dispiace ripetermi, ma sono stati sopravvalutati, almeno per quello che hanno mostrato finora. noi li aspettiamo pazienti, però, insomma, il tecnico trovasse qualche soluzione diversa dal chiudere le porte. Ed anche da dire che in questo momento il tecnico non ha molte soluzioni a disposizione, ma questo è un altro discorso. I numeri di telefono, il 366-736-0709, per quanto riguarda le telefonate, e per gli SMS, soprattutto, 340-11-80-370. Franco Fedele, torniamo un po' indietro. Il pubblico... Di tanto? Beh, di qualche anno, di qualche anno, ai primi anni 90. Franco è giovane, anche poi... Certo, eri presidente. Cosa succedeva con il pubblico? Qual era il rapporto tra società e pubblico? Le proteste erano di diverso tipo? Sì, comunque le proteste c'erano. Però, devo dire che ci sono sempre stati molto vicini, almeno in quei tre anni che siamo stati nella Pescara Calcio. Il rapporto, tutto sommato, era bello, anche con loro. A parte qualche bisogno fuori dallo stadio, sai, qualche contestazione, ma abbiamo avuto, e come no? È normale che ci siano delle contestazioni. Eh, beh. Però io mi ricordo molto spesso la società, anche quel presidente Sibiglia, prendeva e aveva degli atteggiamenti abbastanza forti, duri nei confronti dell'arbitro e degli arbitri. Questa società è un po' più tranquilla da questo punto di vista. Perché? Ma io non credo che siano... Il presidente è inibito pure, si è beccato pure una squalifica, si è basato. Sì, però... Sicuramente, sicuramente, nelle sedi opportune si staranno facendo sentire, sicuramente. Non credo che l'albitraggio di domenica scorsa possa passare così tranquillamente, insomma. che nonostante tutto io sono dell'avviso che la partita è stata falsata. Sul rigore c'è un errore clamoroso. Beh, insomma... Anche sull'espulsione alla fine... No, no, regolamento alla mano, le espulsioni stanno tutte e due. Va bene. Le espulsioni stanno tutte e due. Io sono... Io non accetterò mai il discorso di scaricare sugli arbitri, però... No, assolutamente no. Però gli errori sono errori. Però ci stanno e... Io non dirò... Non mi riesce di dire che uno perde per colpa dell'arbitro, perché sì, può succedere che l'arbitro sbaglia, però sbagliano pure i calci di rigore. Ma intanto Franco ha detto che la partita è stata falsata, la partita. No, no, c'è stato un errore sul calcio di rigore, però per favore... Adesso io... Ma perché devo fare sempre io il critico col Pescara? Cioè, ma per favore contiamo i tiri in porto del Pescara fino a quel momento. Io non riesco ad arrivare a due. Perché sennò Arpotti non riesce a citare. Io non riesco ad arrivare a due. La squadra ha stentato, ha stentato molto. Non è stata quella delle precedenti due partite nel modo più assoluto. Il clima era da Oké Corral, da molto agonismo all'inizio. Cioè, il Modena tecnicamente, per l'amor di Dio, è l'ombra di una squadra... Cioè, ai tempi di Fedele... Siamo nettamente superiori. Ai tempi di Fedele, una squadra come il Modena faceva una C a fatica. Una Lega Pro di oggi a fatica. Adesso, infatti, sta lì, un punto sotto al Pescara, con una partita in meno. Anche se ha due attaccanti che sulla carta sono più forti di quelli del Pescara. Luigi? Sottoscrivo quello che dice Walter, lo dicevo in apertura di trasmissione. Il Pescara immediatamente si capiva, già dai primi minuti, che non era il Pescara che avevamo visto con il Frosinone. O meglio, era un Pescara che assomigliava più al primo tempo con il Frosinone. Perché poi anche la partita con il Frosinone è stata una partita a doppia faccia. Un primo tempo in cui il Pescara era contratto e poi il Pescara nel secondo tempo si è sciolto. Ha fatto valere anche una superiorità fisica nei confronti di quello stesso Frosinone. Che poi, nello stesso giorno in cui il giorno prima Pescara perdesse con il Modena, aveva strapazzato letteralmente il Livorno venerdì sera. Insomma, il Livorno, forse tecnicamente insieme a Catania, è una delle squadre più forti del campionato di Serie B. Questo la dice tra l'altro anche lunga, tra parentesi, sui valori di questo campionato che sono molto oscillanti. Non c'è una squadra che in questo momento riesce a marcare la sua superiorità. Mi riferisco a questa vittoria con il Frosinone una settimana dopo un rovescio clamoroso con il Pescara. Però tornando alle cose di casa nostra, si è visto che il Pescara contro una squadra era chiaramente in crisi. In Modena credo che non vincessi in casa da oltre un mese. La squadra di Novellino sono squadre a ruffone. C'è questo Granoccio che è un po' una bestia nera del Pescara che puntualmente segna. Ma insomma, sì, ha fatto nove gol, quindi ne aveva segnati altri. Ma credo che di tutti i gol del Modena lui abbia segnato sostanzialmente l'80%. Quindi questo la dice lunga su quanto sia anemico l'attacco del Modena, che è una squadra con valori tecnici modesti. Però l'approccio non era quello giusto. Io non ho visto il Pescara che giocasse con fluidità sulle fasce. Non ho visto spunti di Politano, tranne all'inizio quell'azione in cui poi c'è stata la convergenza al centro e quel tiro che ha lambito il palo. Però l'apporto di Politano, che per me è un giocatore fondamentale in questa squadra, soprattutto per i due attaccanti, io non l'ho visto. Come non l'ho visto fino a quando è stato in campo anche da parte di Lazzari. Baroni aveva, dicevi tu, ma forse era una molta scelta. In questo caso aveva una scelta, che era quella di far giocare Memo Shaif dall'inizio della partita. Non lo ha fatto, ha preferito il lento e macchinoso Apple Pires, su cui abbiamo detto, ridetto tante volte. Evidentemente Baroni sapeva anche che Memo Shaif è un giocatore che viene fuori da un tunnel di infortuni e quindi non può essere utilizzato o forse perché l'impegno, il derby, quindi probabilmente le motivazioni erano queste. E' stato il fatto che quando è entrato Memo Shaif in campo, dal mio punto di vista, a centro campo si è visto un ben diverso Pescara. E quindi siamo qui a ridire, lo dicevo ad inizio di trasmissione, a parlare degli stessi temi di cui abbiamo parlato per settimane e settimane da questo osservatorio privilegiato che abbiamo io e Walter di ospiti fissi, di un Pescara che sembra lì lì per convincerti e poi puntualmente ti smentisce. Diceva bene Franco, anzi l'assessore diceva dopo Franco il fatto che con la prossima partita probabilmente ci può essere di nuovo un rilancio di entusiasmo, ma soprattutto per i giocatori stessi, per l'allenatore, non soltanto per l'ambiente. Però aspettiamo la consacrazione del Pescara, dall'inizio della stagione questa consacrazione sembra in procinto di arrivare e non arriva. Ecco io vedo un po' gli sms che arrivano, qualcuno dice Lazzari e Puccino dovrebbero essere puniti, non sono da Pescara per quello che hanno fatto, insomma non esageriamo. Le società naturalmente... Quelle storiche importanti, le espulsioni le penalizzano con multe sempre, salvo che non arrivino per fatti particolarissimi, ma le espulsioni per condotta violenta o gravemente scorrette prevedono multe, secondo me anche a Pescara le prevedono. Qualcuno ha scritto, Nerone sei il più competente. C'è il caffè pagato. Ah, è il mio nipote che aspetta il regalo per domani. Qualcuno chiede se Lazzari era stato già espulso in una precedente partita. Mi sembra di sì, ma non mi ricordo quale, onestamente. Sì, era stato un fallo di reazione. Allora, parliamo all'assessore. Io credo che forse non debba far testo tanto quest'ultima partita, visto che è stata così condizionata dall'arbitraggio. Noi sappiamo che a volte arbitraggi sfavorevoli possono portare a questo, però teniamo conto anche che le ultime due precedenti partite, il Pescara veniva fuori da due vittorie. Quindi sei ottimista sostanzialmente. Io sono assolutamente ottimista, nel senso che credo che questa è una squadra che ha delle grosse potenzialità. L'allenatore sta ancora trovando qualche piccola difficoltà, poi gli infortuni che ci sono stati, però credo che questa squadra ci potrà dare delle soddisfazioni. Speriamo che riusciamo ad affilarne qualcuna di più, speriamo di non incontrare questi arbitraggi come questo che c'è stato. Questo non lo troviamo più per quest'anno. Ecco, per quest'anno non lo troveremo più sicuramente. Io ritengo che invece qualcosa di positivo noi dobbiamo sempre cercare di trovare in questo. D'altronde venivamo da due vittorie e fino a quando non c'è stata l'espulsione, la partita non stava giocando bene il Pescara, però se la stava giocando. Era incanalata sullo 0-0. Era incanalata sullo 0-0. Prendere un punto a Modena non era nulla di che, però in ogni caso avrebbe allungato la striscia positiva, per cui io sono fiducioso per venerdì. Giorgia, possiamo parlare anche di sfortuna, secondo te? Ma io non penso si possa parlare di sfortuna, nel senso che c'è bisogno di capacità per vincere una partita. Poi nella prossima partita, che sarà particolare, c'è bisogno anche di essere carichi, di non farsi abbattere magari dalla mancanza di un pubblico. Magari il Pescara può contare sulla presenza maggiore dei tifosi. Ho potuto vedere che magari i tifosi lancianesi non sono poi così vispi come quelli pescaresi, abituati a vedere i pescaresi nei bar, sempre pronti a difendere il proprio Pescara. I lancianesi ero visti un po' demoralizzati, forse impauriti. Allora, poi ne parleremo quando vedremo le interviste che hai realizzato. Franco Fedele, una domanda per te. Torneresti nel Pescara? Adesso? Nessuno se l'aspettava. Sì, adesso. Nessuno se l'aspettava questa domanda. Direi proprio di no. Assolutamente no. Io ammiro molto la dirigenza attuale perché è veramente una società che si sta dando molto da fare e ci permette di vedere un bel campionato come quest'anno, con una squadra abbastanza valida. Adesso lasciamo perdere le cose che non vanno, però sulla carta è una gran bella squadra e sono sicuro che ce la faremo andare. Cos'è cambiato rispetto ai tuoi tempi nel calcio dirigenziale di oggi? Oggi è più semplice o più difficile fare il dirigente di calcio? Beh, io so per quando facevo io il dirigente. Adesso bisognerebbe domandarli ai soci attualmente che stanno lì. No, ma l'impressione che ti sei fatta naturalmente… È difficile comunque. Io credo che oggi sia più difficile. Sicuramente… La mia opinione, però poi… Sì, 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 sarà anche più difficile, comunque anche ai miei tempi non era così semplice, insomma. Non è mai stato così. Non può esserlo, dai. Sempre il contatto con i tifosi, la squadra, il lavoro che cominci a tralasciare perché è una conseguenza anche quella. E quindi è un grosso sacrificio. Allora, qualche minuto di pubblicità, poi torneremo di nuovo in diretta. Allora, torniamo in diretta e mi viene subito una domanda, perché adesso passiamo a parlare della partita che tutti aspettano, quella con il Lanciano. Il Pescara oggi non è più il punto di riferimento in Abruzzo, o lo è ancora? Questa è una domanda difficile, Luigi. Guarda, mi viene da ridere perché vedevo un messaggio che passava e diceva preparatevi a fare il derby con l'Aquila. Per un momento ho pensato che fosse una provocazione dei lancianesi o di qualche solido chietino che ovviamente ce l'ha con il Pescara. Poi, in realtà, mi sono reso conto che potrebbe essere tranquillamente il messaggio di un Aquilano, perché l'Aquila in Lega Pro, credo sia seconda in questo momento, e quindi nulla esclude che se il Pescara quest'anno dovesse andare in play-off o non dovesse andare in Serie A, come tutti ci auguriamo, l'anno prossimo se all'Aquila dovesse andare in play-off, bene, questo derby Pescara-L'Aquila che in Serie B credo non si sia mai giocato, forse si è giocato moltissimi anni fa, qualcuno che ama le statistiche ce lo può dire, si potrebbe disputare, quindi non è una provocazione. E allora ritorno alla tua domanda. Certo, il calcio è cambiato, sta cambiando e anche le dinamiche abruzzesi del calcio sono cambiate e oggi il Lanciano, la squadra su cui i giornali, anzi devo dire che il tuo giornale mi pare che un anno fa forse aveva anche invertito le pagine e adesso si è ricreato un po' di rispetto, per il Pescara, c'è prima il Pescara a sinistra e il Lanciano a destra, però credo che dall'anno scorso il Lanciano sia avanti al Pescara in classifica. Ora questo però non deve illudere gli amici frentani sul fatto che il Lanciano sia la prima squadra d'Abruzzo, conta la storia, conta il blasone, conta la tradizione, conta anche la forza di pubblico di una città come Pescara, da Lanciano venerdì arriveranno i mille, probabilmente a parti invertite ci sarebbe stata un'invasione di pescaresi, ma questo non deve offendere i lancianesi, i lancianesi devono essere consapevoli e sono protagonisti di un campionato di Serie B, lo sono stati per larga parte anche lo scorso anno di quel campionato di Serie B e che sono soprattutto protagonisti in Abruzzo di un vero e proprio miracolo, perché la famiglia Maio sta facendo cose eccellenti, Lanciano è una cittadina, come altre cittadine che sono presenti nel calcio che conta, per carità, perché di fenomeni come il Lanciano ce ne sono anche altri, Cittadella è una città più piccola di di Lanciano, credo, non so se dal punto di vista della popolazione, ma conosco bene Cittadella anche dal punto di vista del bacino, mi sembra con un respiro più piccolo rispetto a Lanciano, però da molti anni e comunque in Serie B, però la storia del Pescara, la Serie A del Pescara, la tradizione, insomma guardo Franco Fedele e penso che Franco ci abbia fatto vivere delle grandissime stagioni e grande entusiasmo, Pescara ha una storia che comunque metterà sempre al primo posto la città di Pescara dal punto di vista del calcio, poi se parliamo di rugby è chiaro che l'Aquila ha una tradizione e rimarrà sempre, anche se l'Aquila dovesse avere difficoltà nel mondo del rugby, il rugby è l'Aquila, il calcio in Abruzzo e Pescara, gli altri si mettono un'anima in pace. Questo è vero, concordo perfettamente. Allora nelle ultime giornate abbiamo 4 fuori e 2 in casa, cerchiamo di girare a 30, nel giorno di ritorno ci divertiremo. Presidente a gennaio facci sognare, c'è comunque fiducia e ottimismo e questo è sicuramente positivo. Sarà un onore il derby con l'Aquila, non vi dimentichiamo, tornerete a volare anche questo sms di stensivo e di speranza. San Bascoli, Ancona, Foggia, Salernitana, Verona, Lazio, eccetera, questi sono i nostri derby, il resto sono e saranno sempre partitelle del giovedì. Un saluto a tutti i cugini di Campania che, altre volte abbiamo detto cugini di Campania che però... I cugini di Campania hanno vinto pure Sanremo, eh? Eh sì. Devo dire che dobbiamo dare atto di quello che il Lanciano sta facendo, di tutta la realtà lancianese, perché sicuramente affari spenti, perché affari spenti stanno facendo davvero bene. Sarà ora impegno e sicuramente compito del Pescara risollevare le sorti della formazione bianca-azzurra. Partita particolarissima soprattutto per Baroni, Walter. Beh, credo che sarà l'uomo che la sentirà di più questa partita, che che ne dica? Poi dopo lui è un professionista, saprà gestire l'attenzione nel modo migliore. È indubbio che nella sua ancora fresca carriera di tecnico gli si propone una situazione diciamo originale, nuova, inedita, con una piazza che lo aveva idolatrato fino a un minuto prima che diventasse ufficiale la separazione. Ne ho sentite tante sul perché adesso a Lanciano parlano male di Baroni. e qui abbiamo avuto situazione un po' diversa. Abbiamo avuto il caso Zeman, no? Un allenatore che ti fa fare un campionato da sogno, perché quello dell'anno scorso con Baroni, in questo periodo stavano primi in classifica o secondi, è stato il più grande, diciamo dal punto di vista sportivo, è stata la parentesi più importante, più prestigiosa che Lanciano ha vissuto finora. A fine stagione loro pensavano al futuro con un allenatore che aveva il contratto, col quale pensavano di progettare una stagione che ne fosse la prosecuzione. Si trovano in questo allenatore che invece dice finiamola qua, perché diciamo su una piazza come Lanciano ripetersi è più difficile che a Pescara o a Torino o altrove. Giustamente lui ha pensato un po' la sua carriera. A Lanciano hanno fatto due ragionamenti. Primo, oddio e mo' che facciamo? Come succede in tutte le piazze? Lo stesso ragionamento che ha fatto il Pescara quando Zeman non ha accettato di rimanere. Quando a Torino è andato via Conte quest'estate, tutti a sparare addosso alla società perché l'avete fatta andare via, adesso se ne sono dimenticati. Quindi adesso che facciamo? Se è andato Baroni che aveva dato, aveva migliorato addirittura il percorso di Gautieri. Dopodiché arrivano sempre chi ti dice ma quello se n'è andato perché aveva già il contratto in tasca. Con il Bari si diceva, con qualche altro. E allora la reazione del tifoso ci sta. Dopodiché Baroni viene a Pescara e si ritrova sette punti dietro a Lanciano allo scontro diretto. I lancianesi adesso se la godono e sportivamente hanno ragione di farlo. Baroni se la rode e mi dispiace per lui ma anche lì ci sono buone ragioni. Un tifoso lancianese dice che il lanciano non è impaurito e il tifoso non è impaurito perché loro sono una società seria e quindi sono tranquilli. Ma il segreto del lanciano è quello, è una società che ha continuità dirigenziale, scusami se ti rubo la piazza, continuità dirigenziale e continuità tecnica. Hanno creato un gruppo di giocatori dall'epoca Gautieri che sta dando continuità. La società indubbiamente si è rivelata non solo affidabile ma anche avveduta, accorta. I collaboratori tecnici dall'amico Ciccidiomedia a Leone, evidentemente. Che sono pescaresi. Che sono, guarda caso, pescaresi a Lanciano lo sanno. Non sono gli unici. Quindi un po' di pescare nel miracolo a Lanciano c'è. No, diceva, è bello perché ormai sono iniziati i messaggi, devo dire peraltro ironici ma garbati fino adesso. Ma voi del pescare a chi crede di essere il Real Madrid finirete tra i direttanti. Cosa credete? Ma è successo a Verona che Chievo stava in 0-1, Verona in Lega Pro. Quindi voglio dire nel calcio meglio. Fin quando c'è questa sana competizione non ci sono problemi, vero Assessore? Io dico che per noi abruzzesi deve essere un motivo d'orgoglio questo derby con Lanciano. Qualche anno fa Pescara era l'unica realtà a parte la parentesi del Castel di Sangro che stava nelle serie superiori. Noi magari anche l'Aquila quest'anno facesse questo salto di qualità. In questo momento di grande difficoltà del calcio dove le società calcistiche italiane insomma vivono momenti di difficoltà rispetto alle società straniere. Se noi in Abruzzo riuscissimo a avere ancora più realtà io sono sincero, io naturalmente tifo Pescara. Ma quando seguo mi vado subito a interessare dei risultati del Lanciano. Per cui insomma benvenga avere una sana rivalità tra squadre abruzzesi e se Lanciano farà un campionato di grande spessore così come sta facendo benvenga insomma. Ma il sindaco di Pescara andrà a pranzo con il sindaco di Lanciano? Questo non lo so, questo non lo so. Io non so se in precedenza il sindaco... In precedenza ci sono andato a Lanciano ma andò molto bene perché poi il Pescara vinse anche quella partita. Venerdì purtroppo abbiamo la delegazione dei giochi del Mediterraneo quindi credo che sarà difficile che il sindaco Alessandrini potrà riuscire a coniugare le due cose. Ma sicuramente se non sarà in questa occasione sarà un'occasione della partita di ritorno. Il sindaco di Lanciano che è anche presidente della provincia di Chieti. Un saluto a Mario Pupillo che, caro amico, al di là delle appartenenze diverse, caro amico, persona tra l'altro anche molto appassionata per le soldi. Noi speriamo che sia una bella partita. Speriamo che l'arbitro sia un arbitro giusto. All'altezza. All'altezza speriamo che sia una bella partita. Che non scontenti nessuno. Che non scontenti nessuno. Naturalmente forza di scara insomma. Allora io direi di entrare un po' nella tana del lupo in questo caso del Lanciano perché Giorgia è stata a Lanciano oggi pomeriggio, ha intervistato alcuni tifosi e poi ci racconterai qualcosa. Vediamo il servizio che ha realizzato per noi. Siamo qui alla tabaccheria di Gianni Di Menna lungo il corso Trento Trieste di Lanciano. Bene Gianni Di Menna, come è andata l'affluenza dei biglietti? Quanti biglietti sono stati venduti fino ad oggi? Fino ad oggi sono stati venduti circa 600 biglietti, l'affluenza è regolare, siccome ci sono tanti giorni per poterli acquistare quindi non c'è stata quella ressa come in altre occasioni. Quindi l'affluenza è stata maggiore delle altre partite? Diciamo di sì, anche se con più regolarità. Perfetto, aspettiamo qualche tifoso per fare qualche domanda. Lei pensa che Lanciano possa farcela anche senza Baroni? Ce la deve fare anche perché ce l'ha sempre fatta, anche perché senza Baroni è andata meglio la squadra quest'anno. Pensa che la tifosiria sia fondamentale per vincere questa partita? Sì, però diciamo che la squadra, a parte la tifosiria, ha dimostrato che c'è. Secondo lei Carlo Mammarella, che è il capitano della squadra, è fondamentale per vincere questa partita? Sì, perlomeno per quanto riguarda le punisioni, visto che lui le calcia benissimo, io penso che sia fondamentale. Cosa si aspetta da questa partita per Scala-Lanciano? Che sia una bellissima partita, penso, come sempre d'altronde. E questa squadra pensa che sia abbastanza forte per vincere? Quale? La squadra del Lanciano, certo. Beh, penso di sì, oddio, penso di sì, è una buona squadra, diciamo. E il capitano del Lanciano sarà pronto? Credo di sì, credo di sì, insomma, anche perché lui è un ex insieme a qualche altro giocatore, insomma, quindi penso che si faccia bene, insomma. E Baroni? Baroni non lo so, vi dico la verità, noi lancianesi non è che siamo rimasti molto contenti di quello che ha fatto, insomma, di quello che ha fatto, non calcisticamente, insomma. Quindi mi vuole dire che c'è da risentimento? No, oddio, penso no, fino a sto punto, diciamo, eh. Parlo io, parlo da tifoso, insomma, capito? Quindi penso che, non lo so, non credo che ci siano cose eclatanti, diciamo, eh. Quindi che vinca il migliore? Sì, sicuramente, sicuramente, sicuramente. Chi pensa che vinca in questa sfida Pescara-Lanciano? Beh, l'allenatore del Pescara è un ex del Lanciano, è un derby. Penso che ci sia più un pareggio che... più del Pescara. E il Pescara pensa che si sente in soggezione per il fatto di essere indietro di sette punti? No, deve recuperare, per quello se penso di no. Pensa che la tifoseria sia importante in questa partita? Molto. È il dodicesimo giocatore della squadra, di tutti e due. La curva sud del Pescara è stata totalmente riservata ai tifosi del Lanciano. Pensa che sarà piena? Penso di sì, penso di sì. E il capitano della squadra, secondo lei, riuscirà a portare i suoi ragazzi alla vittoria? Non lo so, però... ma io penso, guarda, non ci sarà vittoria, ci sarà un pareggio. Aspettiamo i risultati. Bene, allora, Giorgia, che impressione ti hanno fatto i tifosi del Lanciano? Non ho visto questo grandissimo entusiasmo, nonostante tu. Quello che ho notato anch'io, mi aspettavo veramente una guerra, una lotta tra i tifosi lancianesi e quelli pescaresi. Invece ho trovato un po', non so se è un modo per difendersi. Come l'allenatore del Lanciano ha deciso all'ultimo secondo di chiudere gli allenamenti, di non permettere di vedere a nessuno come fosse l'allenamento. Forse anche i tifosi hanno adottato la stessa tecnica, non lo so. Sì, perché il Pescara si allena a porte chiuse, il Lanciano non lo fa, questa volta l'ha fatta, è una scelta come tante, chiaramente è una partita. Sbagliata anche quella. Sbagliata come è sbagliata quella del Pescara. È stata una scelta all'ultimo momento, il che fa pensare molto. Sì, ma credo che sia una reazione al fatto, ma in ogni caso sono due scelte sbagliate. Cioè in quei momenti così, chiudere gli allenamenti, dà la sensazione che c'è una tensione notevole, eccessiva. Perché se tu mantieni la routine, aiuti anche i ragazzi, i giocatori, ma anche l'ambiente a mantenere... I tifosi lancianesi hanno evitato toni esasperati. Secondo me è un atteggiamento intelligente, di non caricare, perché poi dopo l'imbecille che va oltre ci sta sempre. Purtroppo lo dobbiamo mettere nel conto. Quindi per me è un atteggiamento intelligente, magari un po' cauto perché a Pescara il Lanciano sa che si può perdere, no? Hanno visto cosa è successo a Frosinone. Però questa cosa degli allenatori, porte chiusi, nascosti... Dopodiché i giornali puntualmente il sabato pubblicano le formazioni giuste e raccontano pure i provini che hanno fatto a porte chiusi. Io di allenamenti a porte chiusi ne avrò visti un centinaio negli ultimi 4-5 anni. Ma perché la porticina si trova sempre? Ma la porticina si trova sempre. Ma se si conoscono i segreti degli allenamenti a porte chiusi in Real Madrid, è voi che questi si nascondono a Poggio degli Olivi piuttosto che lì a Lanciano. Ma dove si nascondono? Allora, Franco, insomma, questo rapporto col pubblico che in questi casi viene a mancare è sicuramente negativo. Cioè il pubblico dovrebbe essere sempre vicino alla squadra e il pubblico deve essere vicino alla squadra. E la squadra deve permettere che il pubblico le sia vicino. Io preferisco che i tifosi siano più a contatto con la squadra. Ti ricordi le rifiniture con mille persone? Certo, certo, certo. È un modo per caricare anche la squadra. Comunque, il mister vuole fare così, va benissimo. Adesso l'importante è venerdì, però. Venerdì noi dobbiamo assolutamente fare un risultato positivo, cioè la vittoria. Ci vuole proprio. Mi dispiace per il Lanciano perché io simpatizzo molto. Hanno un sacco di punti. Però hanno un sacco di punti, ma dobbiamo recuperare noi. Dategli la ditta, la Sud ha i cugini di campagna e il loro campetto, una cosa del genere. Il nostro Sud è la cittadinanza del paesello col campetto, così saranno felici. E gli sembrerà di stare a San Siro. Biancazzurra, però, inoltre la storia di Lanciano, vabbè, è chiaro che poi adesso i tifosi si sbizzarriscono con questi commenti. Ripeto, sono comunque molto ironici. C'è anche qualche Terramano, giochiamo qua in casa Terramana, che dice fermi tutti. Ricordatevi che c'è anche il Terramo che ha due punti dall'Aquila e quindi tutto sommato ha le stesse chance magari il prossimo anno di apparire in Serie B. Sarebbe bello una Serie B? Eh, sì, si è verificato, non in B, però. Con quattro abruzzesi. Sì, si è verificato qualche anno fa. In C, in legato. Sì, purtroppo noi siamo al gradino di sotto, in quel caso è stato il Pescara ad andare a trovare. A trovare, sì. Se ne fossero cinque, perché c'erano l'Aquila, Castel di Sangro, Terramo e Giulianova. Se non ci fosse Pescara tutti gli indoni non avrebbero scopo nella vita, così scrive qualcuno. E pubblicità, poi di nuovo in diretta per sentire anche l'allenatore del Lanciano. Di nuovo in diretta per tornare a parlare del derbissimo d'Abruzzo tra Pescara e Lanciano, venerdì sera alle 20.30 allo Stadio Adriatico Cornacchia. Ora però andiamo di nuovo a Lanciano, dove è stata Giorgia oggi pomeriggio, ed ha ascoltato in conferenza stampa l'allenatore del Lanciano e altri due giocatori, Di Cecco e Aquilanti. Il servizio. Ma è chiaro che il derby è una partita a sé, è tutto legato alle motivazioni. Come spesso vediamo anche in Serie A i derby, si può preparare la partita tutta la settimana, però alla fine il derby è una partita totalmente diversa, particolare. Dire che sia una partita normale come tutte le altre, lo è solo per i punti. Ma assolutamente non può essere il derby una partita come tutte le altre. Il derby è una partita, è una partita non da giocare ma da vincere, semplice. Premesso che Carlo Mammarella è un giocatore molto importante, però prendo spunto da questa domanda perché per quanto riguarda la partita di Crotona, chi l'ha sostituito ha fatto una grandissima partita. Siccome però ho letto critiche abbastanza, per essere in modo gentile, inopportune, soprattutto anche per gli altri due ragazzi che hanno giocato, come Paolo Grossi e Bacinovic. Detto questo, le condizioni di Carlo si valutano tutto giorno per giorno, però a prescindere se il capitano ci sia o meno, quelli che vanno in campo, che io reputo una risorsa, non mi stancherò mai di dirlo, lo sono veramente. E quindi sono tranquillo perché nel caso in cui non dovesse farci la Mammarella, c'è Nunzella che ha ben figurato. Il fatto che noi in questo momento in classifica ci troviamo con gli stessi punti del Bologna, siamo un punto di tre livoro, siamo avanti a squadre come Catania, come Pescara, ripeto, una squadra fortissima perché il Pescara sulla carta è una squadra fortissima. Se ci facciamo condizionare dalla classifica facciamo un grande errore. Un derby, si sa, non è una novità, però è anche vero che noi dobbiamo guardare la classifica, essere intelligenti perché il Pescara ci è dietro. È chiaro che noi dobbiamo andare lì per ottenere la vittoria perché è quello che vogliamo, è quello che vuole la gente, è quello che vogliamo tutti noi di Lanciano. Però andare lì, considerando che il Pescara ci sta dietro di sette punti, quindi se non riusciamo a vincere non bisogna assolutamente perdere. Forse l'anno scorso eravamo più quadrati, eravamo più fisici, subivamo meno e concretizzavamo quelle poche palle e golle che avevamo, infatti tante partite abbiamo vinto anche 1-0. Poi nel finale siamo scesi e abbiamo perso i play-off. Quest'anno vedo la squadra che si chiude, che riparte bene con i due esterni e l'attaccante in velocità. Per me abbiamo anche un gioco un po' più frizzante, più spumeggiante. Però è chiaro che ora bisogna vedere che percorso avrà questa squadra di quest'anno. L'anno scorso abbiamo fatto sicuramente un grosso campionato. È chiaro che ci teniamo tanto a far bene, anche è vero che non dobbiamo caricarla troppo, perché poi non renderemo come sappiamo fare, però siamo abbastanza grandi e intelligenti a sapere che non è una partita come le altre. Forse la storia non è dalla parte nostra, la rosa delle squadre non è dalla parte nostra, lo sappiamo che molte volte abbiamo smentito i soliti pronostici, quindi noi andiamo a Pescara per fare quello, come facciamo spesso gli altri sabbati. Allora vedremo cosa accadrà venerdì sera. Un tifoso del Lanciano, un sms, si diceva dispiaciuto dell'arbitraggio scandaloso di Modena, e poi parla di delirio di onnipotenza da parte dei tifosi biancazzurri. Allora, riprendiamo un attimo con Diodati. Poi torneremo a parlare della partita, ascolteremo anche qualche tifoso da casa. Il Pescara si è parlato nelle precedenti settimane dello stadio. Il Pescara ha bisogno di un proprio stadio e che cosa è possibile fare? Perché se ne sono dette tante, ma adesso ascoltiamo l'assessore allo sport che ci dirà qualcosa, metterà un punto su questo discorso. Allora, noi una volta che siamo entrati nell'amministrazione della città, abbiamo verificato che purtroppo nel settore sport abbiamo delle grandi incongruenze dal punto di vista economico, nel senso che le entrate sono di molto minori rispetto alle uscite che l'amministrazione comunale, quindi la collettività intera, deve sostenere per gestire questi impianti sportivi. Di questi l'Adriatico è quello che incide maggiormente, per cui in seguito a questa situazione c'è stato un interessamento da parte della Pescara Calcio che ha manifestato un interesse nei confronti dello stadio per fare in modo che possa manifestarsi una sorta di partnership pubblico-privato e prendere in gestione lo stadio per un certo numero di anni, trasformando in parte questo stadio come uno stadio, insomma per far capire uno stadio all'inglese, nel senso eliminando la pista di atletica leggera e spostando gli spalti un pochino più vicini al campo. Noi per quanto ci riguarda esaminiamo con attenzione, sempre rispettando tutte le società che utilizzano lo stadio perché su questo bisogna essere chiari, nel senso che noi in primo luogo alla Pescara Calcio o a chiunque sarà interessato a un progetto di questo genere qui, abbiamo chiesto in ogni caso la costruzione, il trasferimento della pista di atletica presso altra zona della città di Pescara perché per noi è importante ridurre i costi dello stadio, però in ogni caso dobbiamo permettere a quelle società sportive, a quelle discipline sportive che svolgono la loro attività all'interno dello stadio di poter in ogni caso continuare queste attività. Si è aperto un ragionamento, diciamo che non siamo a pagina 1, stiamo iniziando a procedere nel ragionamento, la Pescara Calcio sta facendo le sue valutazioni, noi abbiamo trovato dal punto di vista normativo la strada da dover proseguire, da dover seguire perché questo possa succedere se sono rose e fioriranno, nel senso che noi da parte nostra c'è la massima disponibilità. Cioè sostanzialmente voi chiedete, sì siamo d'accordo nel darvi lo stadio in gestione, nel farlo modificare perché questo è essenziale, però la Pescara Calcio deve comunque costruire un altro stadio per l'atletica, questa è la condizione essenziale. Questa è la prima condizione, nel senso che dopo ci saranno da fare tutte altre valutazioni, però questa è la prima condizione, ma non mi pare di aver trovato nella Pescara Calcio una condizione ostativa da questo punto di vista qui. Certo, loro stanno facendo le loro valutazioni, nel senso che risistemare, ristrutturare lo stadio adriatico e renderlo uno stadio idoneo solo per il calcio non è una cosa da poco, per cui noi guardiamo con favore un'ipotesi del genere cercando di fare in modo di non penalizzare nessuno e di creare le condizioni per cui anche il costo a carico della collettività venga parzialmente ridotto. Che ne pensa Luigi Mascia, visto che lui è stato sindaco? Ma ne abbiamo parlato già altre volte, mi fa piacere avere qui l'assessore allo sport, che tra l'altro nella mia vita privata è anche un amico, ben prima che facesse l'assessore, quando ero sindaco e anche prima. Una sottolineatura la merita alla questione impianti sportivi. Noi come amministrazione abbiamo lasciato alla città, quindi è patrimonio della città, è patrimonio dell'assessore Diodati, dell'amministrazione, ma di tutta la città di Pescara degli impianti di primo ordine. Lo dicevamo proprio mentre venivamo qui in trasmissione, oggi abbiamo degli impianti che sono invidiabili e mi riferisco al campo dei Gesuiti, mi riferisco al campo Donati, quello Ancitelli, erano stati già realizzati il campo Zanni, il campo Flacco, che per intenderci è il nostro antistadio, quello che per noi pescaresi è l'antistadio, oggi non sono più dei campacci di fango dove si usciva magari in giornate di pioggia coperti completamente dal fango, ma oggi sono campi in erba sintetica davvero degni di una grande città del nord, e qui guardiamo sempre come modello sportivo, invece abbiamo in casa dei valori assoluti. Costano questi campi, realizzare un campo in erba sintetica costa dai 600 mila agli 800 mila euro, cifre notevolissime, ma anche investimenti importanti perché poi sono campi che non hanno più bisogno di manutenzione, che hanno una durata di 10-15 anni o comunque hanno bisogno di una manutenzione relativa. Ora è vero quello che dice l'assessore, che i costi di gestione dei campi sono rilevanti e quindi bisogna trovare una sorta di break even point, cioè di compensazione tra quello che un'amministrazione, una città intera, perché poi l'amministrazione rappresenta la città, spende per un campo rispetto alle entrate, però è anche vero che la funzione dello sport è una funzione sociale, sulla quale non può essere applicato il meccanismo rigido delle entrate e delle uscite, perché su un campo di calcio come quello si allenano bambini di 4 anni, di 5 anni, fino a persone più avanti con gli anni, che hanno voglia di fare sport, tante società sportive a Pescara che hanno le difficoltà, che hanno tutte le realtà oggi esistenti e quindi forse mi permetto di sottolineare che l'amministrazione comunale, quindi le amministrazioni comunali in genere, ma non punto l'indice contro quella attuale rispetto alla quale sono all'opposizione e questa non è una trasmissione di politica, mi permetto di sottolineare che forse i risparmi andrebbero fatti altrove, mentre nel mondo dello sport quei ritocchi Giuliano che vengono fatti per le società sportive e magari quegli innalzamenti di quote, di canoni per l'utilizzo di campi cittadini costano pesanti sacrifici e non vorrei che poi alla fine fossero penalizzate le famiglie, perché poi di fatto le società sportive per continuare a fare sport devono naturalmente chiedere di più alle famiglie, le famiglie oggi sono in difficoltà, pagano tasse e non si può togliere lo sport ai ragazzi. Lo sport ha un valore educativo fondamentale, non parlo degli stati comunisti nei quali lo sport è un totem e viene addirittura reso obbligatorio, però questo è un modello invece importante perché comunque per i giovani è importante. Io tra parentesi sono anche l'assessore alle politiche sociali, quindi sono molto sensibile a quello che dice Luigi, infatti non abbiamo al momento aumentato, stiamo valutando, ma valutando veramente con molta attenzione tutti i possibili aumenti che dovremo necessariamente fare, consideriamo che le entrate rispetto alle uscite rappresentano il 12% nel settore dello sport, in qualche maniera noi se chiediamo sacrifici ai cittadini in qualche maniera anche noi qualche piccolo sacrificio lo dobbiamo fare. Il riferimento allo stadio adriatico è proprio per questo, nel senso che a noi tutti farebbe piacere avere uno stadio che poi purtroppo non è vero che viene utilizzato da tutti perché lo stadio adriatico fondamentalmente viene utilizzato solo dal Pescara perché i ragazzini non è che possono calpestare l'erba dello stadio se non creerebbero problemi. Per l'atletica invece c'è un bel movimento. Per cui saremo assolutamente attenti nel determinare queste tariffe, se ci sarà un aumento di tariffe perché lo stiamo valutando. Per la questione dello stadio, la questione dello stadio è una questione molto più importante perché purtroppo lo stadio necessita di lavori, di manutenzione continui. Quindi per voi è una spesa? Ma è una spesa per la collettività perché il costo dello stadio adriatico è una spesa che grava su tutta la collettività pescaresi. Allora io credo che, come dice giustamente Luigi, i risparmi vanno fatti dovunque e in tutti i settori andranno fatti i risparmi. Nello sport dovremo cercare in qualche maniera di razionalizzare le spese, nel senso che non non potranno essere tutti a carico dei cittadini perché se no, voglio dire, verrebbe persa questa funzione sociale dello sport. Ma in parte dobbiamo cercare di fare in modo che la collettività in qualche maniera, qualche piccolo risparmio da questo non debba ricavare. Io mi auguro che riesca in questo obiettivo di creare questa partnership con la Delfino Pescara. E' un progetto su cui ha lavorato addirittura l'amministrazione d'Alfonso, l'assessore d'Amico, credo elaborò un progetto che poi invece rimase lettera morta. Ci abbiamo lavorato anche noi e non siamo riusciti più che altro a trovare quella strada giuridica perché poi occorre per forza una procedura di evidenza pubblica. Però ci sono modelli calcistici in varie città d'Italia, credo che quello di Parma e soprattutto quello di Udine possa essere il modello da prendere ad esempio. Io credo che il Pescara prima di fare un investimento su un nuovo stadio di atletica credo debba pensare soprattutto come trarre profitto e vantaggio dallo stadio Adriatico Cornacchia. Mi vorrei fare delle attività economiche perché altrimenti sarebbe un'attività fine a se stessa. Dovrà essere una struttura aperta non più solamente la domenica ma dovrà essere una struttura fruttissima settimana. Corriate i tempi Giuliano, i tempi che corrono non rendono questo facilissimo. Comunque ne parleremo. Però è l'odevole il tentativo, va fatto. Abbiamo introdotto il discorso, ne parleremo quando il Presidente del Pescara verrà qui in trasmissione, ci ha promesso che verrà a dicembre. Inviteremo di nuovo se vorrà l'assessore. Io devo dire che fondamentalmente noi abbiamo i nostri problemi dal punto di vista finanziario ma fondamentalmente la proposta ci è venuta dalla Pescara Calcio nel senso che non siamo stati noi a cercare. Forse i tempi saranno diversi, saranno più maturi. Ora questo non sono in grado di dirlo perché, ripeto, noi ci siamo scadenzati un attimino dei tempi e con la società ci rincontreremo ufficialmente a gennaio e vedremo un attimino se sarà possibile portare avanti questo progetto o se il progetto si arena. Ne riparleremo. Intanto abbiamo una telefonata in linea e ascoltiamo chi è dall'altra parte della Cornetta. Buonasera. Buonasera, buonasera. Pronto? Mi sente? Sì, sì, certo. Con chi parliamo? Saluto tutti gli ospiti, in particolar modo all'ex Sida Comascia che io conosco e stimo. Ciao. Io chiamo da Lanciano, mi chiamo Luigi. Mi sono sentito in dovere di fare questa telefonata perché veramente leggere quelle cose, Cugini di Campania, mi dà un po' fastidio. Io voglio ricordare ai signori di Pescara che Lanciano ha le sue radici fondate, ma senza fare lo storico, a 1179 a.C. Poi mi sono andato a rinformare un po' su Wikipedia, figuriamoci, ma perdonatemi questo sfogo. E poi Lanciano ha una tradizione sia, non dimentichiamo la casa editrice Rocco Carabba, Pinari e varie tutte. Lanciano non è una cittadina come la volete definire voi, è una città che ha diciamo le sue, come potrei dire, piccola però e ha la sua storia che forse neanche voi a Pescara non avete questa storia per quello che mi riguarda, ma a prescindere di tutto. voglio anche dire che noi abbiamo una società che vi auguro che in un futuro lo avrete voi, perché io non è che voglio essere presunctuoso, ma la nostra società non ha niente a che aspettare con la vostra società, per tanti motivi e voi sapete benissimo che poi voi vi nascondete un po' dietro alle facciate. Per quanto riguarda la signora che non so il nome, ha fatto tre interviste lungo il corso, giustamente ha intervistato tre persone di una medietà, senza offendere la media di quelle persone, ma se lei andava magari al bar Micolucci dove è frequentata dai giovani, sentiva magari un po' di folclore di questo derby, mi va a intervistare persone come me che sulla sessantina d'anni è un po' più pacata, che ti deve dire? Sono uno sfogo, sono un po' agitato, perdonatemi perché sono interattensivo per queste cose, ma perdonatemi veramente, non lo sto dicendo. Vi ricordo un'ultima cosa che questo me lo ricordo io per l'età che ho e forse anche il signor Albore Mascia, l'ex sindaco, Giorgio Bocca, signor sindaco, me lo ricorda, no? E' idorialista dell'Espresso e di Repubblica. E io queste cose non le dimentico, quindi voglio dire, avete fatto un gran sviluppo, avete anche un po' sviluppato male, vedete cosa vi succede in caso di Alpazzoni, siete la città giusta e chi ve lo nasconde, però rispettiamo anche le altre città, perché io queste cose non le dimentico, io non sto ascoltando la sua risposta signor sindaco perché ho dovuto abbassare il volume in quanto sennò puoi fare eco. Vi saluto e vi stimo di spingare a tutti. Grazie, grazie. Un abbraccio. Grazie. Alla fine siamo abruzzesi e ci vogliamo parlare. Abruzzo è sempre forte e gentile. Di nuovo tanti saluti e un abbraccio a tutti. Buonasera. Grazie, grazie. Grazie al tifoso di Lanciano, ma a quelli di Pescara, di Teramo, ci sono anche i terramani che prima reclamavano un... siamo vicini a tutti. I chietini che dicono che noi eravamo il porto commerciale di chietti. La storia di Lanciano... Ma è bello quando è così perché è molto distanza. La storia di Lanciano, come dire, non la dobbiamo scoprire. Non la dobbiamo mica, non si può nascondere mica con una classifica di serie B. Io ho avuto il piacere di lavorare a Lanciano per oltre due anni, facendo un mestiere tra l'altro che ti fa stare in mezzo alla gente. Non mi sono mai sentito fuori casa. La storia di Lanciano, culturalmente parlando, è fra le più importanti non solo d'Abruzzo. E allora, voglio dire, quando arriva una partita di calcio, poi si mescola tutto. Fino a sabato mattina gli amici di Lanciano perdoneranno. Poi se sono come questo signore, va benissimo. Poi da sabato mattina si torna lì, Lanciano c'è la sua storia. Qualcuno dice che venerdì non sarà un derby una partita come le altre. Eh sì, per far rosica qualcuno, però poi alla fine rosica chi perde. Pubblicità, poi torniamo in diretta quando sono le 22 e 8 minuti. Bene, torniamo in diretta. Allora, al di là di questa rivalità, sana rivalità devo dire, quindi questo facciamo i complimenti a tutti perché al di là di qualche battuta c'è sana rivalità. e questo non è come dice qualcuno, una partita come le altre, ma è il derby dei derby, Franco. Per l'Abruzzo almeno. Sì, è una partita particolare, è un derby, però dobbiamo prenderla come una partita un po' più accesa, non proprio tranquilla, ma sicuramente sarà una gran bella partita, un bello spettacolo, ti possiede da una parte, dall'altra, insomma. Io penso che ci divertiremo comunque, vero a Dio. Ma i tifosi del Pescara questa volta non protesteranno, immagino. Non faranno lo sciopero. Ma io sinceramente vi appello a loro perché vedere quella curva semi-vuota, diciamo, d'altronde è sempre piena, non va bene, dai, ragazzi, venerdì dobbiamo stare tutti insieme a fare il tifo per il Pescara perché ne ha bisogno, dobbiamo essere compatti, quindi rinunciamo a quel segmento proprio vuoto, insomma, dello stadio. Anche perché deve essere una festa, comunque una festa e comunque vada. Giorgia è un derby particolare da vivere. Sì, è un derby particolare e secondo me non sarà comunque vada. Secondo me i pescaresi abbandoneranno questa linea di sciopero per fare il tifo. Noi i pescaresi siamo così fino all'ultimo, comunque ci siamo nelle occasioni giuste, nei momenti particolari, nei momenti anche di bisogno. Quindi so che sarà una partita difficile, ma possiamo vincerla tranquillamente. Molto ottimista Giorgia, forse Valtteri un po' meno, visto che il Pescara ha difficoltà, anzi l'allenatore Baroni ha difficoltà a mettere su una formazione concretamente, insomma. Noi assenze. Le assenze sono numerose, quindi per una volta l'organico che io definisco troppo ampio consente comunque di mettere i giocatori nel ruolo di pertinenza. Ogni ruolo sarà coperto con un giocatore che normalmente gioca lì. Quindi si è creata proprio la situazione limite fra infortunati e squalificati, lungodeggenti. Dopodiché io non sono d'accordo con quelli che dicono che l'organico del Pescara è nettamente superiore a quello del Lanciano, per due banali motivi. Uno, la classifica dell'anno precedente dovrebbe essere la prima referenza di ogni squadra. L'anno scorso il Lanciano è arrivato parecchio avanti al Pescara e di quella squadra ha conservato una buona ossatura, una larga maggioranza dell'organico. Allora, se tanto mi dà tanto, il Lanciano ha fatto degli innesti su una base che era più solita di quella del Pescara. Il Pescara si è rinnovato, ripeto quello che ho detto qualche settimana fa, ho sfogliato tutti gli almanacchi, ma nell'organico del Pescara trovo delle belle promesse, ma non trovo gente che ha stravinto campionati, non trovo gente addirittura che ha vinto campionati. Qualcuno non l'ha vinto perché è troppo giovane, quindi sicuramente li vincerà, magari comincerà a Pescara, però siccome noi stiamo parlando prima della partita, la storia recente ci dice che Lanciano parte un pochino più su. Io sono pescarese, quindi parlando da pescarese sapete che non sto facendo un'esamina che mi piace molto, però onore al merito, Lanciano parte un pochino più su. I sette punti ci sono in questo momento. I sette punti ci sono e ci sono nella storia recente delle due squadre, ci sono nella storia recente delle due squadre, la differenza di sette punti ci sta tutta. Dopodiché, in Pescara c'è dei ragazzi, dei giocatori, alcuni secondo me due o tre, non di più, non di più di due o tre, che potenzialmente possono fare la differenza. Qualcuno di questi mancherà purtroppo, e quindi nel campo, dopo in un derby, perché piaccia o non piaccia, è altro che partita qualsiasi. Già il fatto di dire una partita qualsiasi denota il fatto che chi lo dice non ci crede, perché se no non c'è bisogno di sottolineare l'ovvio. Non è una partita qualsiasi per i pescaresi che stanno sotto, non lo è per i lancianesi che per una volta, anzi per la seconda volta consecutiva, stanno sopra. E quindi, diciamolo che è una partita particolarissima, viviamolo con lo spirito giusto, per l'amor di Dio, io lo dico anche pure stasera, se ne convinco uno all'anno sono felice, non si tifa contro, tifoso, tifare vuol dire sostenere, senza fare i latinisti, aiutare, supportare, tifare contro è nata cosa, quello si dice gufare. specialmente nei momenti particolari. Il tifoso che non tifa, che tifoso è? Lo sentirete ancora per un po' di giornate, ma il tifoso che non tifa per me non è un tifoso. Dopodiché alla fine della partita fischia, urla, pernacchia, ai dirigenti, passati, presenti, futuri, ci sta, fa parte del gioco. Ma venerdì sarà un grosso tifo, vedrai, tutti quanti ti cremo. Io ne sono convinto, io ne sono convinto, ne sono convinto, sono convinto pure che andrà tutto bene, che chi ne dica qualche idiota è la storia dei cugini di campagna che secondo me è solo folklore, non è niente di dispregiativo. Perché dobbiamo tifare? Anche perché sia una bella partita che verrà osservata da fuori, è l'anticipo della giornata di B. Quella sera Pescara e Lanciano saranno un po' la vetrina, la lente di Canavano saranno seguita da tutta Italia, magari non da 10 milioni di spettatori, magari da uno o due milioni, però sarà seguita da tanti e quindi, come diceva qualcuno, non ci faceva arconoscere. Luigi, ti preoccupa la non presenza, quindi l'assenza di Maniero? Beh, sì. Proprio in questa partita così importante si era creato un bel affiattamento tra Melchiori e Maniero. Melchiori viene definito da molti nei messaggi un fuoriclasse ed è effettivamente un giocatore di livello superiore, ma con Maniero a fianco riescono poi ognuno a dare qualcosa di più e quindi a creare una miscela perfetta. Però lo leggevo forse oggi o ieri sui giornali che Pasquato, lo diceva forse proprio Sebastiani, e Pasquato in questo momento può essere una spalla ideale per Melchiori, sarà lui a sostituire Maniero, giocherà nel suo ruolo e Walter dall'inizio del campionato in queste trasmissioni ha sempre sottolineato la posizione sbagliata di Pasquato, mentre le grandi potenzialità di Pasquato possono essere espresse proprio nella posizione che evidentemente gli dovrà dare Baroni per venerdì sera. Pasquato è un giocatore di grande talento, di grande tecnica, di grande piede, punizioni, ecco Pasquato è uno di quei giocatori che può in effetti vincere la partita da solo, quindi Maniero non c'è, però io contrariamente a quello che dice Walter ritengo che il Pescara abbia un organico di primissimo livello, anche nei ricambi e questo è il caso in cui fuori Maniero, che in questo momento è il capocannoniere del Pescara, dentro un giocatore che ha segnato quattro gol e che comunque si è sempre fatto rispettare in campo e che ha anche un curriculum di assoluto rispetto come Pasquato. Voglio sottolineare anche, e a Modena non se ne è parlato, ma a Modena è stato anche un'ulteriore conferma, un'ulteriore certezza, questo portiere Aresti che è entrato in campo in punta di piedi al posto di Fiorillo nelle prime giornate, dopo alcune giornate si sta confermando un portiere bravo, interessante, di categoria, anche a Modena ha avuto la capacità di sfoderare un paio di interventi, poi abbiamo preso due golle come ne abbiamo presi, però è un portiere importante, in serie B il portiere è un punto di riferimento assoluto. La partita di venerdì è delicata anche dal punto di vista della sicurezza, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, è una di quelle partite difficili, le partite serali dal punto di vista tecnico della sicurezza sono partite ancora più difficili da gestire, però lo voglio dire chiaro e forte, noi abbiamo un questore a Pescara che è stato tra l'altro nostro ospite qui nel nostro studio, tra i migliori d'Italia e ha dei dispositivi eccezionali per qualunque tipo di emergenza, di emergenza di carattere calcistico per ogni evento e quindi già credo da domani si inizierà a studiare ogni sistema per poter prevenire comunque qualunque tipo di contatto tra le due tifoserie perché comunque mille lancianesi non sono pochi, i tifosi del Pescara saranno sugli spalti, sia quelli della tribuna ma ci saranno quelli che poi sono il cuore vero e pulsante della tifoseria e sono i ragazzi della Curva Nord che io saluto e nei confronti dei quali ho grande ammirazione perché ovviamente si comportino comunque in maniera sportiva e in maniera civile, poi tranquilli lancianesi vincerà il Pescara, poi dopo al ritorno si vedrà a Lanciano, magari poi al ritorno Giorgia farà le interviste al bar che il signor Luigi dice così sono tutti contenti, pur i lancianesi e siamo contenti anche noi. Bene, allora l'ultima fascia pubblicitaria, poi torniamo in diretta per concludere questa trasmissione con gli ultimi commenti. Torniamo in diretta allora, Assessore Diodati, cosa ci aspettiamo da questa partita? Abbiamo detto una festa sugli spalti e poi dal punto di vista tecnico? Assolutamente una festa sugli spalti, io prima mi sentivo quando tu hai chiesto a Franco il vero derby, io credo che il vero derby noi sia col Chieti per Pescara, però purtroppo la squadra del Chieti non ci dà questa soddisfazione di poter fare questo derby e quindi io a parte mi aspetto assolutamente massima correttezza da parte dei tifosi ma di questo ne sono certo e sono convinto che il Pescara ci darà quella soddisfazione anche perché noi abbiamo bisogno di una serie di risultati positivi. Io credo che anche la futura campagna acquisti di gennaio sarà condizionata da questo ultimo mese di campionato perché in qualche maniera noi una svolta a questa stagione la dobbiamo dare, non ci aspettavamo una stagione di anonimato così come è ora e quindi io credo che la squadra c'è, se riuscirà a fare quello che noi tutti ci aspettiamo benvenga altrimenti la dirigenza dovrà in qualche maniera cercare di supplire a quelle mancanze che ci sono fino ad ora e quindi sarà un mese importante e io spero che questo mese inizi bene con la partita con il Lanciano. Franco, nelle parole degli ospiti ma in questa ma anche in altre trasmissioni c'è sempre questa velata critica probabilmente all'allenatore perché quando si dice che la squadra c'è alla fine la squadra che non fa risultato è sempre l'allenatore che rischia, che ne pensi? Sono convinto che questa squadra alla distanza uscirà e uscirà anche molto bene naturalmente il mister all'inizio si è trovato in difficoltà, tanti giocatori nuovi ma ce la faremo, mentre anche ce la faremo, vabbè d'altronde che vi devo dire? Giorgio, allora incontro con il Lanciano, un Pescara che vuole sicuramente migliorare e tornare a vincere, dall'altra parte un Lanciano che vuole la stessa cosa, sarà una partita bollente? Sarà una partita bollente e penso che potrà essere un nuovo tramponino di lancio per il Pescara, se riusciamo a vincere contro il Lanciano, non che me ne vogliano i lancianesi, però abbiamo la possibilità di superarli quei sette punti, di scalare la classifica e di raggiungere i primi posti, quindi soddisferò la richiesta del signore che ha chiamato, andrò al bar dopo la partita, farò un'intervista ai tifosi lancianesi così vedremo un vero e più confronto. Allora Walter, mettiamola così, normalmente nei derby la spuntano quelli che ci arrivano da sfavoriti, il Pescara ci arriva sfavorito, abbiamo un buon motivo per essere fiduciosi, parlando da pescaresi e da tifosi. Guardando un po' la cosa tecnicamente, la squadra c'è, forse ci sarà, secondo me da gennaio in poi, quella vista con il Frosinone, con Bruggemann e con uno o due innesti nel settore arretrato, potrebbe diventare, a mio modesto parere, una squadra competitiva. Se nel frattempo la distanza dai playoff non sarà superiore ai 6-7 punti, da gennaio inizia un altro campionato, può succedere di tutto. Tre anni fa con Zeman a un certo punto, a febbraio, dopo la nevicata, sembrava che la Serie A fosse sfumata, invece in sei settimane neanche nove e mezzo ce ne vollero, bastarono sei e ci fu un mezzo miracolo calcistico. Questa squadra qua deve entrare in campo innanzitutto con i nervi distesi. prima della partita magari una camomilla invece del caffè, perché se entrano tremebondi con i nervi tesi, con, come si dice, sofferenti, psicologicamente sofferenti, assisteremo ai soliti 30 minuti diciamo terribili, poi se ne escono indenni chissà. Se l'approccio, finché non cambia l'approccio io non sarò mai tranquillo del partito del Pescara, però venerdì il Pescara non perde. Luigi, un appello ai tifosi, oltre a quello che ha detto. L'appello è essere sportivi. Ad entrambi le tifoserie. Gli sfottò come quelli di questa sera, che sono simpatici sulla storia, sulla tradizione. Ora è entrato anche Chieti. È entrato anche Chieti nel... Però non in soccorso dei lancianesi, perché tra lancianesi e Chietini non mi pare che corra buon sangue. E quindi, a parte gli scherzi, io mi auguro che sia uno spettacolo sugli spalti. Un po' come c'è stato tra Milano e Inter domenica scorsa. Il derby a Milano è sentito, eppure massima sportività, massima correttezza, massimo rispetto. Ognuno ti fa per la propria squadra. E poi, per parafrasare uno di quei tifosi che ha mandato messaggi molto simpatici questa sera, Parrozzo 2, Bocconotto 1. Bene, allora con questa battuta chiudiamo, ringraziando gli ospiti di questa sera. Abbiamo parlato in modo tranquillo di questa partita. Siamo stati ironici, lo sono stati i telespettatori che ci hanno seguito da casa. Seguiremo tutti questo incontro così importante per l'Abruzzo. Speriamo, anzi diciamo, vinca il migliore. Per quanto ci riguarda, noi ci ritroveremo martedì prossimo e sarà una trasmissione speciale, perché andremo in onda da Cracovia. Ci sarà un convegno con tanti ospiti anche del mondo dello sport. Ci sarà Walter Nerone, Luigi Mascia non potrà esserci perché fuori in un'altra città europea. Vai in un'altra zona. Ci sarà il professor Prosperi, ci sarà l'ex giocatore del Pescara, Totò Martorella e tanti altri ospiti. Ci sarà soprattutto l'ospito più importante. E ci sarà Giorgia, ci sarà Giorgia. Quindi l'appuntamento a tutti voi è martedì sempre alle 21, questa volta a tutto campo da Cracovia. Buonasera. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone sta viaggiando sul prato e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai? Son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai. Così felice e smalordito non t'ho vista mai. A tutto campo arriverà. E un talk show del tuo Pescara a cui si parlerà. Chissà che faccia che farai. Quando la vedi alla televisione rimarre senza farò. Clicca se seguici. Cliccina. 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 Cliccina.